Buone, tiù ci estes la amo seminario, io casas dum la ILEI congresso in Lignano Sabbia d'Oro, e la titolo della seminario, della 102 amo seminario, è Interculturo in Lerneioi. Stefan è audibili, ma lei senti a me alcuni luoghiere, e ora ci vediamo. La tema è che è Interculturo in Lerneioi. Questa è la prima pioniera di Interculturo, che è il mio caro Mauro Latorri della Tria Università in Roma, che ha fatto il seminario in Salone Latorre. Se non è in Salone pro tecniche e problemi, è comprenibile, se uno Salone ci sia giusto dedicato all'ILEI. Do in la foto vi vidas Mauro con famiglio in Danlando in 1993, in un excurso della congresso dei lei. Stefan scrive, Mauro crea in circa 1990 virtuali, in Lerneioi, in cui la reta tecnologio non è matura. Già malforto è che la Lerneio havesse una base di classi cambro, su base di interculti interessi. E stinti più sbagli, ma fermi virtuali classi cambro, non in cui la reta tecnica di materiale porti le viti molte volte da malplene i pagi. Plura i clopodoi flanche di ECI restarighi la reteion nei successi. Questo è il progetto per virtuale. Sì, ci vediamo nella foto, Mireia anche oggi è, Mireia Grosciane, che è la prima Presidente di lei. E questo è il progetto per capabli di armoni e relazioni con le persone di alcune culture, grava su noi rispetto, seppas, se vogliamo, e pazienza. Ma buoni relazioni non vengono in un secondo. Questa è la foto di Stefan McGill, la chiamata che si chiama anche il Presidente di lei, ma se il consiglio esperantista significa, insieme, pratica interculturale. Ahmad mandui, non è il Presidente di lei, che è questa, e in lei noi pratica interculturale tra sei deco dell'anno. Do, Ahmad, è così. Ebbene potete dire, se volete. Grazie, grazie. Ebbene potete dire in altri casi che noi esperantisti sono più maturi, più unici e più capabili, credo, per utilizzare interculturale comunicazione e interculturale competente. ciò ne abbiamo già passato, ciò ne è la lingua barilona o baro in almeno. Grazie a tutti. 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 Ci sono tutti qui, in ADEC-Na-On1, in Hungaria e il Corea, per un'interculturale di circa 2000. Sì, sono state diverse in questi progetti proiettui per i virtuali interculturai, ligoi, regolai. Niavas Polando in Poznano con diversi Asiai e americai landoi, plurai Asianoi e sudamericanoi studi in l'università UAMO e interagis culture. Niavas Germania, Herzberg am Harz, con acceptado de Coreai studentoi, plurai ekiui studentoi, unua foie forlarsis sian Heimlandon, ca iui suferis, ca poste suferis culturan socon, au sciocon povasesti. Yes, yes, Stefan successis, organizis sian trovi la problemon ca i solviđeni. Buonege, dom, vi povestau, rigi, dankon. Dankon, prola buonega presento de mio materialo. Mi tre gioja. Buone, vi povestau, rigi, dankon. Dankon, buone, ja. Do, iam, in Australia, in 1977, ocazis, discutò, pri, multo culturezzo, ca, lingvo lernado, do, ne, stas, nova affera. Ca, in Benino, in la, i lei congresso, o congressoi, 2008, ocai, 2021, certe ocazis, interculturei agadei. Ca, sendube, in cubo, ocazis tie, du seminarioi, in tridechiaras in secuo, uno, in Hanna Banilia, absolute Brila, ca, le due, in Matanzas, el, ciuvenas, tiubildo. interculturei, stas, tra la tuta. La, revuo, de, i lei, i una amica, estas, prigio gata, de, la secretaria, de, i lei, che estas, Elena Nodicova, el, ce, boxari, ca, si, regule, li, risal, i una amica, tra, no, du deco, trideco, i da iare, rubrican, pre, intercultura. Ca, i poro, da ore, presentis articolon, o pre, intercultura, o chi, almeno, rapportis, pre, agado, e chi, enhavis, intercultura, elementa, chade, inesperanto, esas, presco, neheble, eviti, di un interculture, elementa. Tai, oh no, ah, no, 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 ah, ok, min, havas le, crámen. Ah, mon, vale. Yeah, Estis, articolo, in 1999, anto, longa, longa tempo, anto, durde, quignar, pre, indigenai, dialogoi, giustis, latinamerica, projekto, ca, ti, ho figuris, ti, adho, interculturo, roolis, ege, en, i poro, ma, ja, min, regas la, ecranon, sed, bonnet. Ja. Ja, ecco, estas la, ehm, comunica, laboro, che mi faras, nome de, wea, ca, ilai, iam de, du mil dec, credo, fac de, iam de, iade, pre, vini, se voias, al, quincen, comunicoi, ca, regule, ni rapportas, pre, i proiettai, che, i, prisorgas, interculturo. Ni, si parla, salvo, que, in pochela, ecco, comunicoi, estu, plivaste, videblai, ca, ah, yes, ci, ti, ja, ja, la titola, stada, sube, che, starigi, interculturan, proiecton, meto al voca, en i poro, o, una amica, de proiecto, de, ilai, au, ce, un, ecco, comunico, mi, volante, al donas, tion. Ha, ovvian, propria, contacto, ca, usu, ilin, post, starigi, proiecti, in, kiwi, havas, interculturan, perspektiva. Ca'i comprenable, tiwi, kiwi, usus, pli, yunai, olmi, po, usu, zi, sotsi, ein, medieo, po, kontakti, ho, mein, kiwi, donosalvi, grandiega, grandiegaen, e, blitzu, post, darigi, interculturan, proiectain. Ca'i, gen, mi, amben, asal, concludo, ca, es, interculturo, tiom, essenzas, el, esperanto, ca, ni, ofte, ne, remarcas, ca, ni, practicas, ti, ca, practica, ti, o, cien, vi, faras, per, esperanto, havas, tiom, interculturan, dimensio, ca, patiosas, essenza, parto, de, ni, ni, cultura. Mi, credos, ca, per, tiom, iam, venas, alla, fino, della, presentagio, ca, mi, joyas, rispondi, cal, demandoi, se, ili, existas. No, boni, su, estas, demandoi? Ne? do, ho dieu, estis, tre, longa, visto, in la, mangeio, do, calca, i homoi, ancora, manjas, e, do, cittie, est, scribita, in la, programo, musico, sed, clarissa, eble, ancora, manjas, e, cai, scribita, surpriso, de, ilen, suo, casas, nunna, cio, Alessandra, est, cittie, est, cio, cio, do, ni, povas, mi, anka, o, avas, mi, realigas, la, virtualen, lernei, secchi, ne, ancora, ne, cio, est, as, anna, leuvenstein, chiu, vi, vola, paroli, nunna, chiu, chiu, vi, cio, riservis la messaggion? riservis la messaggion? riservis la messaggion ne c'è la problema sta che mi constatis che mi ne voglas simpe shangila, compurtila che mi deva suscitilu che mi volas montri calcaina parente ma retto se mi è vero che tu scrivi l'addresso in un po' troppo bene, c'è il problema io ero mi ha compurtilum prendis virusson però io uso bo havas la uso bo mi devas iri retta all'aretto ah, vi res retta all'aretto ne havas muson ne havas muson no, ne èstas muson no mi partite all'aretto che ci vi besonnes scrivi o ci vi besonnes venire la retto bene to no vi povas eniri la retto usante ma è ciòs edge ah, ien alvenis Clarissa ci ho scedevano no ci ho scedevano se non è stata via visto buon volo per chi il microfono ne 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 ah, sì ci ho non invidato ci ho non avuto Mi ne usas mian propran confutilon, domina siaskelci tiu resultos, sed mi volas montri alvi la, mi nomis cin facilan portaron, sed mi comensas pensi che eble ti onestas la plei bona nomo, e non mi speras che che l'instruistoi non sia più facile, mi ne parolas vera per teo, sed che ogni eniras cittia, perché non mi devas premi per eniri e ciò cittia. Grazie. 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 Mi rasta varticolo e vettere. Do, ciò mi chiam tibidas laic franon? Yes. Yes. Do, mi volas paroli specifiche prila di finoi in oia faccilla, che esprebleviam ciui conast citiun reteo, che ebleviam sias che estas in gii la articolo in havas di finoin, sed, dove andre in questo, e-bisci farò che città, che è in giudice, e mi bisogna scrivere. Mi sempli volis montrì ciutti un articolo, che aveva esemploi, a, in, tu bestoi con piciloi. Do, vi espereble iam conast citiun reteon chiu estas intensita por lernantoi ci havas articolo in simpla esperanto sed citiure esti suffice, ni povos diri tecnica articolo pri bestoi cum piciloi chiu enhavis multain voto in cui ne estis en rapport listo do, ciui voto in oia facila estis basitai sur vot listo sur preta vot listo kiu habas proximum mil eroim sed do, kion oni faras kion oni vercas tecnica in articolo kiuen havas voto in cui ne estis en la listo do vi versane iam sias che articolo in oia facila amco habas kutime habas voce legadon sed nun mi interessijas aparte pri la difinoi do vi vidas citi la unua la unua frazo la unuae du frazo estas ciiu spezzo de besto havas manierum ca iloin por protectis incontra dangeroi hauto carapazzo cornoi ca aliai in citiu articolo ni farolas pri piciloi cuin posedas hustricoi ca erinazzoi vi vidas che la voto protecti ne estas en la listo de oia facila do se oni tuscias la voto protecti oni trovas citi un difino protecti defendi contra dangeroi carapazzo tre malmola cofraggio cu copras lo dorsom de iui bestoi cornoi corno longa malmola el staraggio sur la capo de iui bestoi exemple sur la capo de bovo exemple sur la capo de bovo estas du cornoi la difinoi mem usas fortain nur fortain cui estas en la vort listo c'è comprenneble estas tre mal facile difini exemple la vort corno usante nur la tre limigitan vort provision de la listo do crom citi tui difinoi estas laueble illustrajoi exemple citi vi vidas che l'articolo temas pri histrico e erinazzoi do ni havas bildo de ili ni havas la difinoi ce la vortoi qui estas tre simple difinoi usante mem nur la vorto in la vort listo cai en la fino de l'articolo ni redonas la difinoi in cui aperis in l'articolo la alfabet sin sec esempio la unua estis echidno besto cobrita de piciloi el australio ca apu da landoy cu nascas ovoin tamen manjigas sian idoin per la propra lapto la estis anka bildo carapazzo dobbiam audistion tre molla molla cobrage cobras la dorson de iu bestoi sed crom la prescribo per voto estis anka la bildo ca tiu estis reshaine plihelpa la corno mal longa mal molla il storajo sulla capo de iu bestoi ca cil clou ca do char voia facila non existas de quariaroi tiu listo de definoi iam comenzas esti tre longa ca completa ca mi constatis lasta tempe ca tiu ensimel formas o povos formi interessam portara portaron facilin van portarem por lernantoi ciu enhavas amasson de illustrajoi che anco enhavas ciu usas definoi nur per facila i votoi evidente ne ciui votoi povas habi illustrajo exemple vividas tie la voton modifi la la defino estas iam shangia feron por cedji estu pli tauga por iu besono do evidente tiono mi ne povas illustri sed ciam eblas mi donas illustrajo cia kato kato media riz mi constatis ciu listo de defino kato mi do ium post diom usas ensi mem povos esti interesa kai utila por instruisto kai por lernanto mi havas jim espereble mi povas montri jim citie la unuan forma de citio listo momentan mi devas taj pila yes pardon mi multipli facile far os tion per la propra computilo exemple mi ne trovas ing mi repus vif no mi sjo 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 vif no do espereble citio fun si es cio mi en eros non vertio mana mi espere cutio fun si us yes do von bollun e usila reton la wifi della salono ah ah yeah do citia mi comensis cre citi un rete un min nomis fortale pol l'an tue ah che dove vidas che ogni pova salti recte alla litera della alfabeto che non desir as Sì, è stato molto rapido e non completo, perché questa è stata un'illustrazione, e questa è stata un'illustrazione, ma sembra che ancora non è successo in questo modo. Sì, abbiamo un'illustrazione per le parole, un esempio è Bacterio, e ho definito la parola Bacterio, usando solo le parole in questo modo, quindi abbiamo studiato un'illustrazione, ma un'illustrazione, ma un'illustrazione, ma un'illustrazione, ma un'illustrazione, ma un'illustrazione. Quindi con un'illustrazione, ma un'illustrazione, ma un'illustrazione, ma un'illustrazione. per infanoi, ci stas intensita per l'ernantoi. C'è molta gente sceglia la opinione che l'ernantoi e infanoi stas la sama afero. C'è il vero afero in cui estus taugai per infanoi che proponassi in bel plen cresculoi. C'è mia zelo intera lìa stas montri per oia faccilla che ogni povas paroli anche o più, mi dirò, plen crescai temoi ecce per simpla linguaggio. C'è da, mi speras che plen cresculoi legante l'articolo minema moras per chi o temi, sed il relatis al malsanoi c'è il clu, c'è da, inhabis l'abortoom viruso c'è bacteria, c'è mi speras che plen cresculoi per la prescribo, c'è la bildo c'è il clu, comprenos per chi o temi. La liguilo che vi vidas tie è un simple liguilo all'illustration, la originale la foto dell'illustration. che stas utile, se gi stas mal bella, gi devus esti sercebla, gi devus esti pli bella aranjita cai teo club. C'è in tuo punto, mi petis subvenzion di esso fo, che la tuta afferro casis tre rapide, fatta, dop, mi recebis subvenzion di esso fo, por crei veram reteon che stas utile, che mi recebis la helpom di Brita esperantisto e computilisto che non mi just drew morgan. Lì faris per me la reteo, che mi havas la sama che mi havas di questo listo di defino che mi non montras, ma è molto tipi bella aranjita. Mi volas non farinovan, che mi posso helpi mi? Mi pensano farigi teo perché mi posso farinovan lungon apponele. Mi simpile volas farinovan che mi faras? Mi posreden a peri malferminovan pagina di internet. Yes, che no da. Che è simpile meti novan addres on. stai non blacchino. Sì. Sì. Non è la lasta. Sì. Sì. Mi donì sa' gi la nomon fa si la vortaro ork doni crez perci citio cione crez perci memoro che citio è stato tre no da due monato e mi nomi portaro per l'arnanto vi vedo che citio vi tre rapida fa facile povos cerci la voto cion vi volas comprenneble gi ne stas completa gi dependas priladifinoi cionni bisogna per articolo in oe a faccilla cionni povas diri estes iomette hasarda do vi vidas la voto almeno mi speras che vi povos vidi ilen la voto in cui mi havas por la litero bo bagatela, bahaa, baci, bacisto do se ni venas esempio al baci do ien oni trovas cai baci cai iom sube estes bacisto cun la difino cai cun la bilzo do estes la sama voto e cui vi vidis in la antaua listo de difino e se vi vidas che gi estas nun pli bele arrangita pli bone pli facile cercella cai mi ancao cun metis in la sama pagio e se ni venas baci o ni trovas ancao pacisto se ni iro iom sube ni vedo che una lia ni havas citi do vi povos auvi di chi u in vorto in cui comence ija per la litera oops pardon per la litera bo auvi povos ancao vidi um biancao povos in pia tutan vorto uh chini yes mi boli smont richit tia said anna bon vole condividuo la ecranon enzoom ilan taue ancao 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 dvd lai cronon yes pardon ancao mi tre detale discuti sti onca i forgets is que vi ne vidas lai cron no chini yes yes do non vidas cincu ne yes trebon ed ancao perdono do vidas que se oni tusas la liter onpo oni sefas tutan liston de ciui vorto itui comenzijas per bo kai vidas ancao que vi povos ou vi povos iri rectal spesifo vorto exemplen idiru bindi kio kasas citir bien bindi kai sub bindi vi vidas la vorto in nun estas bindi kai bindeo cap 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 porto exemplen se oni avas bindi kai bindeo evidente la cap porto nestas bindeo sed bindi sed exemple estas tie ancao la vortoi beno kai beni kai do mi devis rigardia constati che la cap porto estu beni kai ne beno exemple do tio montras albici tiom kio mi nomis vortaro por lernantoi sed mi constatis kio ium confusas la homoim gi ne estas vera completa vortaro gi estas la difinoi de oea facila kai mi pensas kemi evle kio mi diris gi estas il tuta nova kai mi pensas kemi devas renomigin kai la normo pri kio mi pensas estas difinaro laula modello de vortaro kai terminaro do gi estas aro da difinoi kai mi pos ancom omigin la difinoi de oea facila tiel estus pli clare pri kio temas kai estus pli clare eble che gi ne pre estas completa kai et cetera gis nun gi estas completa nur gis la litero co do mi mi iro al co ho koe desi ste la just down yes ku koko jen gi yes uh said mi havas bills non po la une con monito oh yesto me al venus Il problema è che il tuo strumento cobrano. Mi dirai come? Yes. Ma come funziona? Yes, funziona. Oggi devono andare al uno dei lavortoi. Per esempio, non è che io, Gipo. Oggi devono andare al clac e Gipo. Attendo, mi pausa. No, un momento che mi compartigas. Sare. Ancora o ne. Ancora o ne. Un momento. Sare. Buone. Vividas che, esempio, è por la lettera jo, mi ancora o ne al donis la bilto. Mi diris che mi alvenis alla lettera cos, ed mi erraras, mi alvenis alla lettera. Ah, non mi ne treponimo mora, se io o io simile. E esempio, anche, mi havas citi giornalisto, giornalo. Ah, yes. Do, vi vidas che il giornalo ancora ne havas la, la illustrazione, che giornalisto, che giornalismo devas aprire, poste, sub la titolo giornalo. Do, mi ancora o ne atingis, io mi tero. Do, mi, io, posso dire, la tuta enhavo della definaro, è stata già menare teo. Sed, mi ancora o al donas la illustrazione, cae conigas la vorto, che mi diris, esempio, metti cune giornalist, giornalo, giornalismo, giornalisto, che ti ho mi ancora ne faris. Sed, mi volas montri, uno, interessam, pliam aferon, enti tiore teo. C'è, tiò es das facililo. Do, vi vidas, che ti è sopra, eblas, anche o memscribi. C'è, tiò es das facililo, cio es distraita de Magnus Heno, por oea facila. C'è, dru mogum, cio crees por min, citiun reteion, al donis al gi, au ligis gin, cun facililo. Sed, mi diris al li, che facilino, netre bone funcias. Do, se vi typast, o mi vero besonos texton, citiet, sed, semi-types, en la, oh, dia, do, vi vidas sube, che tiui bortoi, aperas, verde o blue, c'è, tiù montras, che ili estas, en la listo, de, uea, faccila. ciar, la, la verde e vorto estes, ciui en la tre, si, la parto della listo, che en la blua, estes en la faccila, parto della listo. Sed, se vi enmetas vorto, cio ne estas, ni penso, pri vorto, cio ne estas, en la listo, de, uea, faccila. di, uea, si, la parto della listo, si, la parto della listo, au, au, terri, per neve, da, tiui bortoi, venas, ruge, da, oni, povas, ci, tie, en, blui, texto, ca, se la vorto è aperas, blui o verde, vi stias, che vi povas, libera, usi ilin, se li aperas, ruge, tiio montras, che, ili nestas, en la vorto, listo, de, uea, faccila. Loc, nomo è, exemple, do, Italio, Italio, aperas, o, ili devo sapere, con iu, um, uh, lila, lilac coloral, apero, se, Italio, pro, io, che, non è. Italio, è, stai, buona. Ah, mi si as, che, al, c'ha, di, lega, c'n, c'il, 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 yes, al, vi provo, fransuio. Doc, vi vidas, fransio, au, fransuio, aperas, con tiu, lilacca coloro, che o montras, che temas, pri, lando nomoi, tiui, comprenneble, anche, mi pensas, Fariso, exemple. Yes, set, dun, vi typas, iun, texton, se la, vortoi, aperas, entiui, parlai coloro, e viscias, che, ili, estas, acceptebla, e vi, ne besonas, altoni, di finnoi, chanestas, che ni, altoni, di finnoi, de lando nomoi, urbonomoi, confrenneble, altiu, listo, de urbonomoi, che, lando nomoi, iun, postiom, aldonas, exemple, hier, o, mi besonis, la, vortom, persa, por la lingvo. Oh, yes, yeah, mental, hmm, 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 yes, do, bibidas, ke persa, ancora, mestas, en la listo, do, tiom, mi devas, aldoni, do, iun, postiom, mi, aldonas, pli, da, vortoi, cui, in, uh, cui nestas, nun, en la listo, no, momenton, chubi, povas, per, kemud, enscripula, vortom, adobre, kiu, vortom, adobo, min, 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 bona, audaz, perdona, pero, adobo, 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 no, ti, oh, ne, devo, sesti, en, g, yes, 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 sed, no, problemo, esto, es, ke, faci, li, lo, ne, pone, fun, c, ar, tow, e, char, multi, vorto, e, exemple, harmonio, do, harmonio, est, as, mal, fatsila, vorto, e quindi è un po' di questi versi, anche se mi memoria satiro, quando si vive sat, ir, o. O è sociolismo, già si aveva sociolismo, quindi è sociolismo. Quindi vi vedo il problema, e quindi mi chiaro, questo è il problema in una versione originale di Facililo, sed mi chiarigis al dru, chi faras por me ci tion reteion, ca mi petis lin al doni tia invorto in alla ruggia gruppo, doli aparte, in ciam mi trofas vortum, chi evidente nestas in la listo, ca tamen Facililo maltrafas gin, nun li al doni silin alla ruggia categoria. Sed mi, mi devas, ci amiesti, ciu lucia categoria, amiesti a suficce grande, sed, costante ocasi, che terras novai vortoi, chiui ne devasi al doni. Mi volas anche aumenti vorto in quel al doni, a momento, mi devasi iri iom mal supran. Es, es, mi ne scutti, mas ne havi muso. Johnny Posey, yes. Do, vi vedo che è stato anche vorto, e qui è stato orange colore, cer, al doni, compreneble, la, la eroi, al, ca doni, estes amba al faccilai, sed, ti un ne signifas, che lernanto comprenas, kion signifas, al doni, alia, estes, el doni. Caedo, tia mi nomis tium seczion, besonas di fino, cer, au, alia, estes, aligi. No, aligi, gi consistas, el faccilai eroi, al, ij, ii, ca, antawe, faccililo, simple ignoris cin'. Sed, nön, ilia, tai votoi, apperas orange colore, tilo che, por averti, la, ele, meant, la ver cantum, che, net, sensas, al doni, di finon, anchom, al, i uvi ubrto, ecze, i uvi, shaina, esti faccilai. Now, net, i uvi uvi, vuelto. Ichi, vy, shainas faccilai. Effettiva, estos faccilai. Alia, estos subteni. No, subteni, no, che signifia subteni, mi subtenas vini. E, sed, mi ancora raffinassi tutti i un'afferio, perché mi posso dire i un po' super, perché mi posso dire i un po' super. Yes, mi pensas che ne devas renomiti tutti i seczioni, esempio, la rugga seczio povus nomi di persona di finon, la oranje colora, o, mi posso nomi gian vortoi, ne in la lista, o, ovvio, simile, la oranje colora, povus esci, besonas, clarigon, dove vedas che mi ancora, iugradibli, bonigas gian, che ne vera trovis la giustain terminoin, car mi comprennis, che home, ne ci am comprenas, che usi ci tion, che ci besonas, ium, pli da clarigoi, cai pli bonain terminoin, pola seczioi. Sed, en lo momento, tio che mi volas vari, est as simple informibin, che iam existas, ci tiu, facila vortaro, ciumi eble degus nomi, difinaro, che iam eblas usi ng faccililon, che faccililo, est as pli boni gata, cai, pratica, non si, che iam existas, quancam, ne ancora, o, devas exemple finen, metti la illustrajoin, pli bonigi faccililo, cai tiu, 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 helpas homo, in cui provas verci faccililin, bain textoin, cia, oni povo simple verci la textoin, au verci gin, recten faccililo, au verci gin, un ue, che poste engluigin, por vidi chi ongi diras qui la vorto e chi in ongi usas. do, la addresso, cio, est as eble monstri l'addresso, a, iam gi, vi vidas gi, faccila vortaro. cio, oh, cio, zion, kas incarcerated, vortalo punto org. Yes, do, faccila vortaro, cio'l unuvoto sem punto. Cio'l mi diris, mi nun constatis, constatas, ke mi erraris pri'l no mo faccila vortaro, ca' ivalus sianci gyn, exemple, al tifi naro. se minessias tu eblas changi la nomon della reteo non minessias tu eblas do minemem faros dru faros do ian tiu es es la affera che mi volis montri do esperante che vi am conosco via faccilla che nun vividas tu ti un reteon faccilla avortaro perciu eblas trovi faccilla in di finoin almeno della vorte che apperis in a via faccilla che anche usi faccilla do ti us as la fino nasce us cruises se vi avus demando in venu mi interrompas do salut 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 tu vi auguri buone no mi pensi che ti ho ne faccia se ble parola parola mi spedicchia avortavo si l'avortavo avortavo si l'avortavo si l'avortavo mi vita c'è un problema tui uno problema c'è 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 il contino del apicco d'un fixo c'è 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 ma anche se accentebbe a l'aula, sì. Sì, io sento un problema, che la del rando fa tenere le ragazze, la del rando non rispondo. Beh, solo rispondo in generale. E quando mi presenta un altro rando, un altro rando, un altro rando, che mi chiedeva un'esperienza e un'esperienza del rando, ti ho risultato, tu t'è risultato, almeno nessuno che vorrà l'argomento. E in modo che ci sono le tiglie di più che non dimenticate le pietre dei vostri costretti sui vivi gatti. E l'unico è sempre che sono tremanze. E le rando persone che hanno fatto Grazie a tutti. al tio la word listo consistas nur el radicoe e morfemoe effektive gine enhavas la plei oftain conmetaggioin kaitial miciam aldonas pri ili definon se ili estes maloftai ne maloftai sed mal facile comprenneblai se oni povas compreni radicon plus suffixon gine bisogna definon exemple la vorto intercultura mi pensas au internazia never besonas apartam definon sed keil mi diris vorto keil eldoni au alia keil mi ofte eldonas definon estas parto preni no mi parto prenis congresso no mi prenis parton de congresso minasias tutio have a sense on portugui al tia i vorto e mi ciam aldonas la definon mi ja pensis ciou fare apartam liston de tiui vortoi ciou aldonigius alla vort listo do por diri pri tiui vortoi videvas mem reconi mi crees la vortlista mi crees la vortlista ciou estas la vortlista usata in contacto usita in contacto ciam mi mem crees anteo quarde chiaro do ciam mi comensis occupigi pri oia facila mi refaris la vortliston tiou estas che mi prenis la vortliston de contacto sed mi aldonis al gi vorto in cui estas neccessai prezipe nun por la en la reta epoco exemple mi aldonis al gi la vorto con ret do reto ecrano clavo clacchi documento do vorto ecciui non in un tempo besonas por la computilo ciai ali flanche mi fo prenis el tiu listo de contacto vorto in cui ne estas vera utila exemple o no mi memora se stas cassedo cia oni ne plus as cassedo in ciai ali estis aseno do cia oni in malnova il lerno libro oni treciatis anecdoto in preaseno esset tui vera estas io della paciente so pri bestoi evidente mi ne pobos havi tu in bestoin della mondo do ecco evidente affero che il tigro mi aldonas mi eble diras iom che aspetso dangera besto che sed do ni havas mi stias che ni havas la bestoin la hem bestoin kiel kato kai muso kai muso kai kai havas tiui in kiu in l'homo e peda rinde usas o mangas exemple xalpo porco povo ciu kai cevalo kai kai cevalo in la vorto cevalo estas en la listo mi pensas che kai tiam ni havas basa in vorto in kiel birdo fisio insecto kai per tiui ni povos var it fino sed nest kai mi havas la nom de ciu insecto skarabo au araneo au ego simila ana tu mi povas stariki demandon au proponon tu vi ne desiras por plifru completiki la vortaron utili li ain simila portaro in exempla ime moras mal novan portaro de villo stela ovo cune opportuna portaro ordinaras iotia hausimilai portaro q estas por comenzanto an corto tiokian mi usas est stil de volta pilfer keno mi jas basa radic kiel jas basa radic caro kios es la vaster bor och una fasa radical ordinara nene sas ordinara ofiziala fasa radical ofiziala mi usas tion char li habas fazila in difino in domi usas tion por creem in difino sed ali flanke ni tre rigore restas cela facile listo char est facile glitti al tio che oni diras do tio voto nestas en la listo talmen ili confrenas jin versaine multa i voto estus confrenebla ed lernanto se in estus en la vot listo kiel tigro exemple sed ou oni havas regulon ou ne faras kai se oni tial mi tre rigore restas cela vort listo kiel mi faras mi indifino kai usante la listo onde walter pilger mi ofte devas iumete modifi gin seli usas wortom kiel mine havas en listo ofte mi povas preni difino nanco el piv ou el povo sed mi devas el revo mi volas diri sed generale mi devas iumete adapti o reverki gin giuste por usi nur eroen el lavort listo kai ciú facciligilo ne estus plitaoga por via ideo ansada faccililo mine nomis gin ci estis creita de magnus henoch kai mi persone estus nominta gin ali maniere facciligilo ium sa sium complica lì nomis gin faccililo kai mi nes chancis la nomis set her li estas citie en lignano kai mi esperis mi sentis alli messaggio mi esperis ium discuti cun 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 drou sed bet orinde li malsan igis do li devas resti in sia chambro don estis la ocaso paroli cun livri tia sed l'idzer te paris la basa n labor do mi kai drou nur ium raffinas cin port il diri kai aldonas tiu in vorto in cun faccililo preter attentis kai ni an donis la lando kai mi volas fine nur danki vin protio via in systemo pri facciligi sprantun de quartec jaro au antawe mi memoras vi tiam facciligis kontaktun au havis faccilain partoin kai la saman articolon pri erinatsoi ni il lasta tempo legis en nia virtuala klasov ni multeie utiligas ni multeie utiligas via in articoloin de vea faccila koran gratulon kai dat kod dankon komproneble mi ciam estes contentas si ke homo usas la articoloin anka o rea parigas silen en aliai en aliai revuoi exemple do mi pensas ke mita pas hiritu ne ades do danko nanna kai la hodiao programmon estes nenur nenur prelegoi sed anka musiko car la titolo de la seminario estes interculturo do cunnici estes clarissa sabatini bon volus ci estes cun sia hang kai si cantos dum iu pauseto por ni dum deco da minuto i pli mal pli yes cioe vi est as preta yes ecco ti instrumento astaz gloga est to rio cioe musik Viene Clarissa, e poi eccomenti iu concerteto. Questo strumento venas in Svislando, ed ha las antiguai originos. Il vero strumento è di Iaro Gumi, ed è parito di idee, di antico strumento. E non mi parola spettiva. Già è troppo lunga. Nu mi presenta a Salvii, mi accanto, che non mi gias eterni come. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.